E poi se vedi su alakazamabra, oh mio dio non mi ricordo qual era il secondo, non mi ricordo il secondo, la prima evoluzione Abra, kadabra, kadabra, alakazam, ok, non mi veniva in mente E praticamente se vai a vedere negli splash, nel primo è nudo, nel secondo Si What the fuck Ok, lo spaventiamo così Non sanno cosa è successo, va bene così Stavo dicendo, ah sì, che nella prima splash non ha niente Nella prima evoluzione ha un cucchiaio storto e nella seconda ha due cucchiai Quindi perché è diventato un maestro, capito? C'hai capito? Come andare dm1? Vorrei trovare quello che è... Vabbè No, per lei dai, Michele è molto più easy Non so quanto sono buoni dopo il forno Abra, kadabra e poi c'è l'evoluzione canina, il labra, kadabra donna Dai, non ci crede, all'1% sto Cioè al 99.9% sto Piltz fucking bad man Questo era un safe perché l'ho rotto Ma perché non ti bannano di nuovo? Agilità È bello che lo sta dicendo Darry, eh Cioè Dov'è lo scurge? Neanche guardavo... Ah no, no, gli scurge A te C'è ancora ma chi che sta ridendo? Sappiato, penso da mezz'ora ormai Mi spiace un po' a rompere la mano Devo essere un altro generatore Quando cazzo stanno? Maiale Maiale Questo ragazzi non sa neanche dove vive L'avete visto? Lo sta allo sto il canale da un centimetro di distanza Manco si è reso conto Ma ho rito anche io per sto maiale E niente, il maiale ha contagiato tutti, basta Nuovo e moto del canale, maiale Ci arrivo, ci arrivo, ci arrivo, ci arrivo Sì, dai, ci arrivo Però hanno rialzato l'altro Vabbè, tempo sprecato Forse all'inizio di curarlo per questo No, vai defro Vai defro Hai pure cambiato nome, scusa Ok, 99% Ti è andata proprio male amico Poi mi vogliono bandar Ma quella è per un altro motivo Allora adesso proviamo a fare una cosa Smart Ecco il cazzo, non è vero Ma che è sto rumore? Basta E niente Era quello al 99% Il fatto è che se non si curano Ma va bene alla fine Non curarsi contro il goss è rischioso Illuminati d'immenso Eh, riprendono il gen Vorrei prendere il stealth, gioco Niente Volevo provare a stalkerarli Per fargli esplodere il gen Il problema di questa donna è che è veramente point Ma lui era curato Ma chi è che la cura? Ma quando si è curato? Comunque vorrei andare in monte Ok Ci piace la mia build? Ma la tua build è solo gli addomi La build è mia Fregata Voleva curarsi Mi sa che c'era la septic Lei What the fuck? Quanto cazzo in dietro Si è tippata questa? Mi sa che c'era il septic agent Perché voleva curarsi Secondo me Non l'ha fatto in tempo Pam, pam Pallet Signor Bella Bella Spero che non abbia balance Anche se la balance Zwingo lo stesso Bella Faccio il money Scusa Non vogliamo Lasciare Ma mica Michela Fuori dalla foto ricordo Spero Aspetta Com'è che si fa per farla No il contrario Vero così Perfetto Così esce pure Michela Nella foto ricordo Ma è stata liberata Dai Ok Ok C'è Lascia vivo Bill Non è la Bill Vittorio Come l'ho presa Dai Questa è scavo Questa mi dispiace per lei Però io ho posto a foto Merita la vittoria Basta raga Guarda che sei tu che hai iniziato Ti rimembro Darry Adesso Non puoi dare via tutto E poi E basta Eh Scusa Ma io ho iniziato Con Radio Maria Eh vedi Hai iniziato Il problema è che mi sta facendo I genquel Tu sei fotografabile Sì Un'altra Bella fotina Però Scusate Sarebbe brutto Rivare Vittorio Di una foto Sua personale Non credete Sotto di famiglia Tutti con zio Con zio Ghosti In effetti Eh capito Ti manderà il cartolino Lascialo libero Sapevo che ce l'aveva Il septic agent Ve l'avevo detto che ce l'aveva Non gli servirà un emerito cazzo Però ce l'aveva Quanto ricordo Cheese Madonna che schifo agli occhi Comunque super Michela è il sopravvissuto più zoccolo di tutti Ma pure finito il gen questo Manderà per la porta o per la botola? Secondo me sta aprendo la porta Ha trovato la botola Dice Vedi? Si è salvato GG Fotobomber Toscano Troppo bello Corrado e Maria Questa è la storia E questa è la storia di come sono diventato papa Una vittoria per vittoria Comunque dai almeno ha preso una win Ciao a tutti No Grazie a tutti.